Il nulla di fatto senza gol fra FC Matese e di Urbano. Il campo basso di Cudini rispecchia a pieno il pomeriggio sportivo del Ferrante. Nulla o quasi per 45 minuti, più brio nella ripresa dove entrambe le squadre sfiorano il successo. Cudini è senza Fabriani e Tengorang per infortunio. Vitali e De Biase in panchina. Gioca a centrocampo il classe 2003 Mancini. Urbano chiude bene le fasce al campo basso e gioca in attacco con Iannetta, Galesio e Felici. Dirige il signor Di Francesco Di Ostia all'undicesimo azione manovrata dai Rosso Blu che va da Mancini a Candelori bravo ad allargare per Esposito il cui tiro a giro è apprezzabile ma impreciso. Inizialmente la partita è molto equilibrata e vive di fiammate sporadiche come quella partita ancora dai piedi di Esposito al quindicesimo è sventata bene da Palombo. Anche se in questa circostanza l'attaccante era in offside. Bene il Matese che non lascia Varchi al campo basso e prova a graffiare un copione ben studiato dal tecnico di casa. Nei Rosso Blu abbastanza sterili rispetto al solito. Fra i più vivi ci sono Di Domenico Antonio, Candelori, lo stesso Esposito che al trentottesimo calcia debolmente a lato. Finisce con un pareggio giusto il primo tempo e senza minuti di recupero. Cudini ed Urbano non effettuano sostituzioni nell'intervallo ma comandano ai panchinari di cominciare il riscaldamento dal primo del secondo tempo. Il campo basso costruisce un'azione armoniosa all'ottavo quando è Mancini a mettere al centro dal fondo. Cogliati sbaglia un gol non difficile da realizzare a pochi metri dalla porta. Cudini decide il primo cambio dal sedicesimo. Prosegue la staffetta fra le punte e dentro Rossetti fuoricogliati. Al ventesimo la pallagole locale con Galesio che decide di caricare il destro. La traiettoria subisce la deviazione con il piede di Menna. E per poco non beffa Raccichini. Urbano fa entrare Abreu al posto di Felici proprio qualche secondo più tardi. Al ventitresimo sono i Verdi ad invocare un calcio di rigore da corner di Barone ad altezza secondo palo. Menna trattiene Galesio. Il direttore di gara fa giocare. La partita si apre. Al ventiquattresimo il cross di Vanzan sbatte contro la traversa, forse dopo un tocco, del portiere di casa Palombo. Il momento delle doppie sostituzioni. Dalla mezz'ora Cudini fa entrare Vitali e Ladu al posto di Mancini e di Domenico Antonio. Dall'altra parte due minuti dopo Urbano a vicenda Giannetta e Ricci per favorire gli ingressi di Masotta e Langellotti. Quasi al trentottesimo Vitali è molto bravo nel ritagliarsi uno spazio a destra e a trovare Esposito il quale libera un destro un po' troppo centrale. Sempre sul pezzo l'FC Matese che al trentanovesimo per poco non trova la porta con un colpo di testa di Galesio che non incrocia a sufficienza. La partita si accende ulteriormente nel finale al quarantaduesimo scambio fra Rossetti e Ladu con quest'ultimo che calcia alto con il Mancino. Il direttore di gara comanda cinque minuti di recupero al novantunesimo con due palloni in campo. Un po' la palla golle per i casertani ed è Masotta a scappare defilato verso la porta di Raccichini e a peccare di altruismo eccessivo nel passaggio. Verso Abreu la posizione infatti era invitante per un tiro in porta. Campobasso qui graziato. Altro colpo di scena è nel finale. Al novantaquattresimo l'arbitro, il signor Di Francesco, emette un triplice fischio. Qualcuno inizia a riguadagnare gli spogliatoi proprio mentre il signor Di Francesco di Ostia si accorge di aver fischiato con 60 secondi di anticipo. Si può quindi riprendere il gioco. Intorno al cinquantesimo ecco un'altra palla gol di marca rosso-blula costruisce Esposito che dal fondo mette al centro dove Cassese è bravo ad anticipare Rossetti. Finisce con il secondo 0-0 consecutivo esterno per il Campobasso e con Cudini che esprime un discreto rammarico a riguardo a fine partita. Dall'altra parte la soddisfazione legittima di Urbano e di tutta la dirigenza dell'FC Matese che ha tenuto bene testa la capolista e porta a casa un punto prezioso.